Tremate, le donne sono tornate, maschi, tremate, le donne sono tornate, maschi, tremate, le donne sono tornate. Ciao cara, come stai? Tutti bene? Per quanto tempo non ci si vede, sono passati i bianchi, eh? Chi si è sposata? Eh, vent'anni fa. Eh, io mi sono sposata due anni fa, ma che te lo dico a fare? Eh, sai, non so voi ragazze, a me è cambiato tutto. In due anni mi sa che sono sposata da dieci anni, sempre vecchiato, sempre stanco, sempre sul divano. Prima si usciva, si andava in giro, si faceva più vita fondana, oggi trovo so, a mal di testa, è stanco, lavora troppo, e sta sempre su quel divano. Posso un telecomando così, e io, lo guardo, dico, ma, e chi ce la farà altri anni insieme a lui? Non lo so, ma, ecco, guarda come sono gioco, come eroino, mi piaceva vestire, uscire, vabbè, a te in calma. Eh, siamo lì, eh, tutti uguali, primo anno va bene, secondo anno va bene, portano fuori a cena, amore mio, eh? Ma il terzo anno, arrivederci, non ti aiutano più, non ti guardano più, eh, non lo va, eh, non ti aiutano a fare niente, lavoro, casa, figlio. A me il secondo, pensate. Ma che io dici, a chi io dici, io credo sempre lo stesso, servizi, casa, bambini, poi una volta a settimana di domenica, che si esce, no, a casa, con le partite, a me, c'è. Ma io ho pensato una cosa, facciamo scioglio, per una settimana, dico, ma, come, scioglio, mi cuciniamo, fai i servizi, lavare i vestiti, e poi, pensi che riuscire a ottenere qualcosa? Sì, e poi facciamo niente, ma quando dico niente, proprio niente, quando dico niente, niente, per una settimana. Bravo, brava, 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 ok, cerchiamo una settimana. No, cerchiamo per una settimana, cerchiamo come andiamo. Ebbene, signore e signori, le nostre tre amiche si sono ritrovate in questo parco a raccontare dell'osolo vicissitudini familiari Il tempo passa, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato La domenica, esattamente dopo sette giorni, si ritrovano tutte e tre nello stesso parco sulla stessa panchina, alla stessa ora, per verificare quello che è successo durante questa settimana per verificare fra loro se il loro sciopero così forzato ha sortito gli effetti desiderati Ed è per questo, signore e signori, che con grande piacere vi ripresento le stesse identiche donne dopo esattamente sette giorni Maschi, tremate, le donne sono tornate Maschi, tremate, le donne sono tornate Maschi, tremate, le donne sono tornate Ciao ragazzi, come va? Bene Beh, cara De Laide Io devo ringraziarti davvero tanto Ho seguito i tuoi consigli E sai, il primo giorno non ho visto niente Il secondo giorno non ho visto niente Il terzo giorno ho visto una festa, una casa di figlioli, una lettera, un invitato a cena L'ho visto cambiato, anche sotto certi aspetti, eh Cosa è importante Contenta, veramente contenta Sembro ritornata indietro Quasi neanche più sposata Devo veramente ringraziare E a te come è stata? Ah guarda, veramente Bisogna fargli un monumento Un'altra persona Non c'entra più niente Un uomo che era diventato Una cosa incredibile Il primo giorno non ho visto niente Il secondo giorno non ho visto niente Ma il terzo giorno Un mazzo di fiori così Un braccialetto di diamanti Che mi aiuta a fare tutto Guarda, ti ringrazio Bravo, bravo Che è un'altra persona Ragazzi, grazie Io il primo giorno non ho visto niente Il secondo non ho visto niente Il terzo ma ha visto solo il vuocirino Ah 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 ah